Un'iniziativa per ricordare Luigi Caffiero, giovane di Torre Annunziata, ucciso per sbaglio dalla Camorra nel 1982. Il ricordo di Luigi questa sera si unirà al dolore per il brutale omicidio di Maurizio Cerrato, l'uomo di 61 anni che lunedì sera è stato colpito alla testa con un compressore portatile e poi ucciso con una coltellata al petto in via 4 novembre. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, gli ordini del Maggiore Simone Rinaldi che mantengono il più stretto riservo sulle indagini. Questa sera alle 19.30 sulla pagina Facebook del Presidio Libera Torre Annunziata sarà trasmessa la diretta dei giovani. Intanto dalla sua bacheca Don Ciro Cozzolino, parroco della Chiesa della Santissima Trinità, stigmatizza l'accaduto. Sono criminali, assassini senza scrupoli, che hanno agito con arroganza e freddezza. Di fronte alla morte di un padre di famiglia, la storia ci insegna che non basta indignarsi, ma la società civile e le istituzioni devono sostenere e accompagnare questa famiglia. La generosità nei commenti di solidarietà e di indignazione di oggi mi auguro diventi impegno per la giustizia. Chi ha visto parli. Il senatore Sandro Ruotolo interviene sulla vicenda con una lettera indirizzata alla figlia della vittima. Cara Maria Adriana, ti dobbiamo chiedere scusa. Siamo tutti colpevoli con la nostra indifferenza e con i nostri silenzi. Nessuno ti potrà restituire tuo padre, ucciso per difendere te, la sua figlia amata. Figlia che è al momento l'unica testimone certa dell'accaduto, già ascoltata due volte dagli inquirenti. Le indagini proseguono senza sosta per assicurare alla giustizia gli autori della brutale aggressione. Duro anche il commento di Giuseppe Manto della Confcommercio. Mi sarei aspettato di svegliarmi questa mattina in un paese blindato. Mi sarei aspettato una risposta forte, soprattutto di presenza, da parte dello Stato. Torre Annunziata ha perso ancora. Si vive nell'illegalità diffusa. Non servono manifestazioni di facciata, servono fatti. Le commemorazioni le lasciamo agli altri. Quelle non ci interessano, soprattutto se poi non cambia nulla. Sono certo che le forze dell'ordine sapranno assicurare alla giustizia nel più breve tempo possibile i responsabili di questo assurdo ed efferato delitto. Nel giorno dei funerali, ha fatto sapere ieri il sindaco Vincenzo Ascione, verrà proclamato il lutto cittadino.